Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, la grazia del Signore come un sole risplenda nella vostra vita, illumina il vostro cammino, rischiare le vostre anime, dia potenza e grazia alla vostra vita, conduca i vostri passi per vie sapienti e illuminate dietro ciascuno di voi la grazia, anche in mezzo a un mondo che si oscura, un mondo che non è certo nella luce di Dio, anche in mezzo a questo mondo la vostra vita risplende come astri nel cielo e quando il Signore ci dice nella scrittura che il giusto risplende come un astro nel cielo ed è come una scintilla in mezzo al fuoco, così sono le anime, tutti coloro che camminano con Dio, quando la tua anima è col Signore, quando la tua anima è nello Spirito Santo di Dio, tu sei una luce per tanti, tu fai rischiare le tenebre con la tua presenza e tanti allora vengono illuminati, tanti vengono beneficiati, allora si avvera quello che disse Signore ad Abramo, io farò di te una grande benedizione e quando il Signore chiede alla sua Chiesa di essere nel mondo la benedizione di Dio per attirare tutti gli uomini a salvezza e noi col salmiste perciò vogliamo proclamare rendete grazie al Signore, invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore, cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Voi stirpi di Abramo, suo servo, figli di Giacombe, suo eletto, è Lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Perciò cerchiamo sempre il suo volto, come dice il salmista. E in questi tempi, fratelli, sentiamo forte il bisogno di innalzare lo sguardo. La tentazione è quella di fermarci a considerare il male che c'è su questa terra quando si agita attorno a noi. Guardiamo in alto, fissiamo lo sguardo sull'autore e perfezionatore della nostra fede, Gesù Cristo, perché in Lui risplende la verità e in Lui c'è la nostra salvezza. Anche se dovrai attraversare le acque, dice il Signore al suo popolo, per bocca del profeta Isaia, le acque non ti sommergeranno. Se dovrai attraversare il fuoco non ti scotterai, perché io sarò con te. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. E oggi nella liturgia della Messa, nella prima liturgia, la Chiesa ci presenta un brano del libro della Genesi dove si racconta la morte di Giacobbe. Giacobbe prima di morire dette ordine ai suoi figli che il suo corpo fosse sepolto nel sepolcro dei suoi padri. Abramo aveva comprato dagli titi un terreno per farne la tomba. Ancora oggi questa tomba esiste, si trova a Ebron, una cittadina molto calda da un punto di vista politico, perché è abitata palestinesi che sono in stato di ribellione contro Israele, quindi la tensione in quel luogo è molto sentita e per questo, anche quando si fa interessante, si fa fatica a visitare queste tombe dei patriarchi ai nostri giorni. Noi una volta abbiamo provato ad andarci al pochino tardi al pomeriggio e c'era un fuggi-fuggi delle persone e anche noi decidemmo di andare via con il nostro pullman perché l'aria era molto tesa. Proviamo a chiedere a degli ebrei che pregavano in quella tomba dove stavano esattamente le tombe dei patriarchi e nessuno ebbe l'ardire di divorgerci la parola, questo per dire l'attenzione che degnava in quel luogo. Bene, qui ad Ebron ci sono le tombe dei patriarchi di Abramo, Isac e Giacobbe e anche Giacobbe volle serpellire lì la sua moglie Elia e volle essere anche lui sepolto lì, però sapeva benissimo che dove aspettare qualche secolo prima che i suoi figli uscissero dall'Egitto e ciò che avvenne poi al tempo di Mosè quando lo lasciarono all'Egitto e portarono con loro le osse di Giacobbe. Lo stesso fece anche Giuseppe, figlio di Giacobbe, chiese ai suoi fratelli quando uscirete qui dall'Egitto portate le mie ossa e Giuseppe fu sepolto e le sue ossa sono rimaste a Nablus, una città non lontana da Nazareth e qualche tempo fa c'è stato un attentato e a quella tomba non si sa più che cosa sia successo se ci sia ancora qualche arresto di Giuseppe, il fatto è che è stata profanata quella tomba da un attentato. Giuseppe chiese di essere sepolto nella terra dei suoi padri, anche lui non vuole rimanere straniero, anche se uomo potente vuole tornare al suo paese bene, nel Vangelo poi troviamo Gesù che ammonisce i suoi discepoli dicendo loro che un discepolo non è più del maestro, si hanno chiamato Belzebulme che sono il figlio di Dio, dice Gesù quanto più voi sarete retenuti dei demoni, sarete perseguitati e Gesù quindi ammonisce i suoi discepoli e questa prassi la chiesa antica l'ha sempre praticata quando qualcuno voleva entrare nella chiesa e farsi battezzare i cristiani lo ammonivano che avrebbe sofferto, che sarebbe stata vittima di persecuzione, per cui dicevano bene state attenti a quello che fate, cioè sappiate che non avrete vita facile, se vi dati addio sarete perseguitati, vedete ai nostri giorni fratelli se una ragazza vuole mantenersi pura, diventa lo zimpello della compagnia, perché? E perché oggi non è più ammessa una cosa del genere, oggi c'è il sovvertimento di ogni valore morale e soprattutto i ragazzi, i giovani si trovano a mal partito, anzi loro spesso sono strumentalizzati per scopi politici, per ideologici, poiché i giovani sono molto sensibili alle novità, sempre pronti ad accogliere qualcosa di nuovo, ma non sempre il nuovo è il meglio, non sempre il nuovo è illuminato, non sempre il nuovo è provato che sia tale, e allora ecco spesso e volentieri l'inganno, e ai nostri giorni questo è come un qualcosa di dominante, soprattutto nelle scuole, dove non si parla più di Dio, dove non si istruisce, non si educa al sacrificio. Ieri un giovane che ha tutte le possibilità di avere una vita facile, perché è ricco, potente, la sua famiglia a grandi mezzi, mi si è avvicinato dicendomi, lamentandosi, perché? Perché vede attorno a sé che le cose in cui lui crede sono cose ormai che si stanno scomparendo, e lui tutto orgoglioso mi ha detto, ho trovato una ragazza molto credente, e io confido tanto in lei, e c'è quello che io veramente cerco, la vedo coerente alla sua fede, che porta dei valori dentro di sé, e questo ragazzo è veramente contento, ha già programmato di sposarsi, se non voglio vivere in qualche modo, voglio una famiglia vera e propria, e confido tanto in questa ragazza, che ha un cuore da credente, è coerente alla sua fede, ma questo vedete fratelli, fa notizia ai nostri giorni, fa notizia, ecco allora la chiesa oggi, sento il bisogno di amore anche i suoi figli, ma è bene che in ogni famiglia ci sia questa accortezza, non ti polemizzare, oggi i ragazzi non vogliono più sentire i consigli dei genitori, già nel 68, se si diceva ai genitori, tu sei matussa, tu sei persone di altri tempi, non conosci le novità, la novità è quando un uomo si converte, quando un uomo accoglie Dio nella propria vita, allora accoglie la novità dello Spirito Santo, che è sempre giovane, che non invecchia mai, non si logora nel tempo, la persona che è animata dello Spirito non invecchia mai, Giovanni Paolo II ricordo, sette anni prima della sua morte, cioè quando aveva 78 anni, aveva un programma che lo portava fino agli 85 anni, quando infatti lasciò questa terra, lui non è mai invecchiato, se il suo corpo deperiva, ma lui era giovane, poteva cantare con i giovani nel 2000, si divertì con i giovani a Tor Vergata, era gioviale, non era invecchiato, è un animo retto, sempre pronto ad andare avanti, il tempo non lo logorava, tutt'altro, è la novità dello Spirito, fratelli, il vero giovane è colui che cammina nello Spirito e allora non invecchia, ma ingiovanisce di giorno in giorno, come dice Salmo 103, e gli rinnova come aquila la tua giovinezza. Allora camminiamo col Signore, camminiamo con Dio, nutriamoci della sua parola, i tempi cambieranno, oggi c'è una moda, ieri c'è un'altra, domani se ce ne sarà un'altra, ma l'uomo non deve vivere copiando o seguendo le modi, ma seguendo la vita, quella realtà che dure in eterno. Signore Gesù, tu sei questa vita, l'hai detto tu stesso, io sono la vita, oggi sanzia la tua chiesa di questo bene che sei tu, alimentaci col tuo corpo, col tuo sangue, con la tua parola, alimentaci del tuo spirito di vita, di potenza e di grazia, e fa che le tenebre in questo mondo abbiano a scomparire, si staure presto al tuo regno su questa terra. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu Vergine Santissima, Madre premurosa della tua chiesa, premurosa verso ciascuno dei tuoi figli, tu ci alimenti sempre con quel sorriso, con quella pace, ogni volta che ti manifesti illumini, doni serenità, allarghi il cuore. Fa che tutta la chiesa oggi goda della tua presenza amorosa, ed ogni cristiano si rallegra la vista del tuo volto e segua ogni parola che tu rivolgi al tuo popolo, ogni parola che esce dalla tua ane, dalla profondità del tuo spirito, perché tutti i tuoi figli siano illuminati, camminino nella luce di Cristo Signore, tuo figlio e nostro Redentore, a cui salga ogni loda e gloria per tutti i secoli dei secoli. Vergine Santissima, illumina questa società, illumina questa umanità, illumina ogni famiglia, oggi illumina i governanti. Col tuo amore di madre piega anche i cuori più induriti e fa che tutti gli uomini si riconoscono figli di Dio. Discepoli del figlio tuo, Gesù Cristo, si riconoscono fratelli fra loro e presto si insede il regno di Dio su questa terra, a Gesù gloria per i secoli eterni. Amene. E su tutti voi, fratelli, sovrabbondi la benedizione del Signore, come con la benedizione di Giacobbe continua anche oggi, la benedizione di Giuseppe continua anche oggi, hanno servito Dio e il loro nome non verrà mai cancellato dalla faccia della terra, perché la loro benedizione continua secondo la promessa di Dio. Amene. Amene. Amene.